La prossima concorrente arriva da casa, arriva da Castrocaro Terme purtroppo è l'unica che è riuscita a passare le selezioni perché c'erano anche tanti ragazzi di Castrocaro e lei è una grande donna, altissima, l'avete vista prima, faceva anche la modella Matilda Valmori Ciao Matilda, come va? Bene Sei pronta a cantare? Sì Quanti anni hai? Sei Cosa ci canti? Il gelataio Il gelataio? Pronta? Signori e signori, Matilda Valmori Viva il gelataio! C'è un carattolo Il gelataio? C'è un carattolo Il gelatoio? C'è un carattolo Lui suona una campanella, si linki, si linki là, limone, pistacchio, amora, è per la felicità, limone, pistacchio, amora, è per la felicità. Corro, corro e torno, cosa va da noio, tiro, tiro fuori quel che basterà, per un po' di crema e di cioccolato, con il buon gelato si venderà, con il buon gelato si venderà. Papi è geladero, e a me me ne può volcar, io andrei con te, non come le vuoi far comprare, se nasce la sua campana, si linki, si linki là, limone, amora. Lui suona una mena gana, su gelato saborea, con il papa e io, rompe la calcilla, si ne sta mancilla, teme pa' comprare. Tonte malecato, teme cioccolato, e ti continui da spalmentare, e ti continui da spalmentare. Ti prendo un po' di crema e la taglio, perché non ti pidi un po', se adesso mi dà un cono, domani lo pagherò. Ci scioglie l'acqua baleno, e di caretino va, e prima si risparmia, e poi si venderà, e prima si risparmia, e poi si venderà. Coro a coro intorno, con il sabato a maio, tiro, tiro fuori, quel che basterà, per un po' di crema, e di cioccolato, con il buon gelato, si venderà. Con il buon gelato, si venderà. Con il buon gelato, si venderà. Matilda, tutto bene? Sì. Secondo te ha suonato bene l'orchestra? Sì. Cosa vuoi dire agli amici di Castro Caro, alla giuria? Grazie per avermi scontato. Grazie a te, Stinnina, ciao!